Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. Questa gioia e questa pace ci vengano dal Figlio di Dio che è venuto a dimorare in mezzo a noi. E Lui è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli un popolo solo, abbattendo il muro dell'inemicizia e ha annunciato pace vicini, pace lontani, scrive l'Apostolo Paolo Liffesini, Gesù è la nostra pace e luce la pienezza della divinità e in Lui noi abbiamo parte alla Sua pienezza. L'Apostolo Giovanni ce lo ricorda che in Gesù Cristo noi abbiamo la vita eterna, sappiate che avete la vita eterna voi che avete creduto nell'Unigenito Figlio di Dio. Perché riconoscere Gesù è riconoscere Dio presente in mezzo a noi e accogliere tutte le benedizioni che Lui ci concede, la prima benedizione e la remissione dei peccati, accompagnata da tutte le altre benedizioni, la comunicazione della pace, i doni dello Spirito Santo, l'amore, la scendevole, la carità. Bene, fratelli, oggi la Chiesa, nell'ambito delle feste natalizie, ci invita a celebrare la festa della Sacra Famiglia, a contemplare Gesù nella sua famiglia umana. Dio ha creato la famiglia. C'è stato un movimento durante la storia che ha voluto che la famiglia fosse ritenuta un'invenzione della società per sottomettere gli uomini al potere. Tutt'altro. Nella scrittura noi vediamo che Dio forma la donna come aiuto dell'uomo, dell'uomo e completamente della donna. E loro due, chiamate e diventate nel matrimonio una cosa sola. I due non saranno più due, ma una carne sola. C'è una sola vita. Come quando si fonde, si mescola, o latte, caffè, si fa un'altra bevanda. Così, nel matrimonio, marito e moglie fondono le loro vite. Non hanno soltanto un atteggiamento sociale, cioè quello del vivere insieme, quelle di accostarsi l'uno all'altro per il bene comune. Fondono le loro vite. Questo è il senso del matrimonio come Dio l'ha creato. Oggi c'è tutta una tendenza a sminuire la funzione del matrimonio, a ridurla a un appendice della vita umana. Non la famiglia è essenziale. La famiglia è il luogo della vita, è il luogo dell'amore, è il luogo dell'attenzione, reciproca. La famiglia è il luogo dove i figli vengono generati, ma nell'amore. Non sono una produzione. I figli sono frutto della comunione, di amore, del dono, di due vite, non semplicemente dell'unione di due gameti, maschili e femminili. ben altro perché i genitori generano la loro vita, comunicano la loro vita, non semplicemente qualcosa di biologico, come spesso si vuole ridurre il concepimento della vita umana. La vita è un mistero grande e ogni giorno lo scopriamo sempre di più, questo mistero, e vediamo quando è reale la comunione d'amore. Quando questa è assente abbiamo veramente dei danni e quando è presente abbiamo ricche benedizioni. Ecco la famiglia umana, fratelli, voluta da Dio, deve essere benedetta, rispettata, vissuta. Tanti non si sposano per snob, per fare una vita più trasandata. La vita va donata, ma prima di poterla donare bisogna arricchirla questa vita, maturarla, accrescere. Infatti man mano che si cresce nella vita e negli anni entra sempre più il bisogno nella nostra natura umana di fare dono di noi stessi. Dono, dono, non altro. La vita non cresce col godimento, la vita cresce nell'amore. È l'amore che arricchisce, che perfeziona, porta all'uomo alla santità. E anche chi è chiamato da Dio una vita diversa dal matrimonio è chiamata a donare la propria vita. Viene nella riturgia di oggi, fratelli, e conviene leggere la prima lettura alla luce dell'amore che noi contempliamo nella famiglia di Nazareth, dove Maria viene chiamata ad essere madre di Cristo. Giuseppe dona la sua vita a Maria, perché sia madre di Cristo. E Maria dona la vita a Gesù e a cui Giuseppe è sottomessa a lui. Secondo la parola di Dio, c'è un vortice d'amore in questa realtà familiare di Nazareth. Si manifesta la gloria di Dio assegnando a ciascuno dei genitori dei ruoli. L'altro si rivolge a Maria perché accolga il figlio di Dio nel suo grembo, ma si rivolge a Giuseppe perché salve il bambino, perché è compito del padre di tutelare la salute e la sicurezza dei propri figli, nutrirli col proprio lavoro. Ci sono ruoli diversi, parità di dignità tra gli sposi, ma ruoli diversi che si completano l'uno con l'altro. E questa sapienza si comprende solo quando si è uniti nell'amore. Perciò il libro del Sinacide, da cui noi traiamo una lettura nella messa di oggi, dice il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei figli e ha stabilito il diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati e li eviterà e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi glorifica il padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore darà consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo adorando la sua vita. Sii indulgente anche se perdi il senno e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. E sapete, fratelli, quante famiglie guariscono, evitano la divisione quando si torna nella propria casa d'origine accettando i propri genitori, perdonandoli se in qualcosa hanno sbagliato. Ma la famiglia comincia sempre da un distacco, come dice il libro della Genesi. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e signerà la sua donna e due non saranno più due, ma una carne sola e non separe, aggiunge Gesù, ciò che Dio ha congiunto. Ma prima di sposarsi è necessario guarire le proprie relazioni all'interno della propria famiglia, perché quando questo non avviene le debolezze, i difetti, le sofferenze che si hanno nella famiglia di origine vengono trasmesse a quella successiva, perché non c'è mai pace. Ecco l'ordine che Dio ha posto nella casa e nella seconda lettura di San Paolo ai Colossesi l'Apostolo raccomanda di rivestirsi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetutine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda, stimola i cristiani a vivere nell'amore vincendevole e per quanto riguarda la famiglia dice voi mogli state sottomesse ai mariti come conviene nel Signore. Non è una sottomissione passiva da schiavi, no, come Gesù ha la sua vita alla Chiesa, così il marito è chiamato a dare la sua amore alla sua sposa, amarlo nel Signore come il Signore ama noi, così voi mogli state sottomesse ai vostri mariti, voi mariti amate le vostre mogli e non trattatele con durezza, voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. E la luce della famiglia, fratelli, ci viene data al Vangelo quando si parla della famiglia di Nazareth, l'angelo del Signore invita Giuseppe a salvare la famiglia fuggendo da Erode. Vedete come Giuseppe è totalmente dedicato a Maria e a Gesù e tutto questo nello spirito di amore. La moglie è chiamata a essere sottopessa al marito ma nello spirito di amore, non nella schiavitù. Nella famiglia vale una sola regola, l'amore, ma un amore sancio, un amore sapiente. Signore, tante famiglie oggi guardano la famiglia di Nazareth perché tante famiglie cercano la sapienza che viene da te dalla creazione. Rinnova oggi tutte le famiglie. Vergine Santissima che hai brillato nella famiglia di Nazareth e col tuo amore verso Giuseppe ha illuminato la vita familiare. Oggi guarda quante famiglie cercano questo amore. tanti pur volendosi bene non riescono ad amarsi per le difficoltà che hanno contratto. Signore Gesù ti chiediamo per l'intercessione della tua Santa Madre di guarire tutti i cuori che sono feriti. Tanti hanno contratto le proprie ferite già nel grembo materno quando non hanno avuto avere tutta la pienezza dell'amore. Oggi rinnova ogni casa fa che in ogni casa brilli la tua grazia. a te sanconi lode gloria onore potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nelle vostre case fratelli oggi sovrabbondi la benedizione del Signore e accogliendo l'invito del Signore cari sposi amatevi l'un l'altro come Gesù ha amato voi. Amen.